In questo video andiamo a vedere tre consigli importanti e non scontati per riuscire a prendere più 30 agli esami universitari anche se hai studiato pochi giorni. Cercherò di evitare i consigli della nonna, meglio del dottor, grazie al car... Il web purtroppo è pieno di questi consigli su come prendere 30 del tipo parla parole tue, oppure quando non c'è una parola cercata sul vocabolario. Insomma non ti darò questo tipo di consigli perché il web è pieno di consigli della nonna che o li possiamo dare per scontato oppure non è che impattino così tanto sul voto, cioè impatta di un 5%. I consigli che voglio darti io impattano secondo me del 200% su quello che è il tuo voto. Infatti anche le tecniche che insegniamo in generale con metodo universitario cerchiamo sempre di dare delle cose che impattano veramente in maniera consistente perché ci sono tanti consigli lì fuori, però non siamo quasi a niente. Comunque a parte questo partiamo con questi tre consigli. Allora il primo consiglio è quello di cercare di andare all'esame con una preparazione impossibile. Che vuol dire impossibile? 30 vuol dire eccellenza. Eccellenza vuol dire cercare di fare all'esame delle cose che per gli altri sono invece impossibili. Ci sono i comuni mortali che studiano con gli evidenziatori, leggi e ripeti riassunti, che impiegano tantissimo tempo per inserire dettagli tecnici o comunque i discorsi all'interno della propria mente. E ci sono delle tecniche di memoria come quella del palazzo della memoria, che è una tecnica di memoria che utilizzava Giordano Bruno, Cicerone, Vigo della Mirandola, il poeta Petrarca anche, che è una tecnica che ti permette di memorizzare una grande quantità di informazioni istantaneamente a lungo termine. Se vai al link in descrizione trovi anche il videocorso Laurea Lampo che è gratuito e dove ti insegno a utilizzare questa tecnica o il videocorso Soprestruendere un giorno e dove troverai le basi per iniziare ad applicare il metodo universitario. Però ora, tornando a noi, io avevo sempre avuto una memoria scarsa, i miei amici mi chiamavano Pesciolino Rosso e quindi faticavo tanto per poi ricordare poco. Ora, ricordare non sempre basta perché poi dobbiamo allenare anche l'esposizione e la comprensione prima, però aiuta molto perché alla fine non prendiamoci per il culo, capire non basta gli esami, devi ricordare tante cose, tante informazioni per quelle che sono. Quindi la memoria è una cosa importante per quanto alcune persone con un po' di ipocrisia dicono no, eh no, l'esame non è memoria. Ma se capisci le cose tu poi te le ricordi. Ehm, che cazzo da di? Questa è una grandissima stronzata perché capire le cose non vuol dire poi ricordarsene. Se per esempio io mi scrivo un discorso, no, l'ho capito, l'ho scritto io, ma il fatto di averlo scritto non me lo fa ricordare. Infatti per questo che la maggior parte delle persone si portano un foglio, no, sul palco quando vanno a fare un discorso, anche se l'hanno scritto loro. Perché sono due cose diverse, capire dei concetti è diverso da ricordarli e sono due fasi diverse. Però quasi noi ci sentiamo in colpa a memorizzare, quindi magari a utilizzare le tecniche di memorizzazione. Alcune persone ci scrivono sotto i video, eh ma che cazzo dite, non dovete solo memorizzare. Ma chi l'ha detto che devi solo memorizzare? Nell'OCME c'è una C, che è la fase di comprensione, non dovete solo memorizzare. Lo so che non devi solo memorizzare, sono il primo a dirlo. E quindi ci sono questi fraintendimenti per cui le persone proprio quasi si vergognano a memorizzare. Però è tutta un'ipocrisia perché sin dalle elementari ci dicono non devi memorizzare delle cose a pappagallo, quando poi alle interrogazioni, alle elementari, alle medie, al liceo, ma anche all'università, ci chiedono di ricordare delle cose a memoria, come delle costanti, delle definizioni, delle leggi, nomi, articoli, tantissime informazioni che noi dobbiamo ricordare a memoria. Ora, dato che la parola memorizzazione ci fa venire l'orticaria, invece di andare a utilizzare le tecniche di memorizzazione, andiamo a utilizzare dei metodi scarsi, come quello delle giuripeti, che ci fa perdere un sacco di tempo, ci fa soffrire, ci fa stare male, è bruttissima, è frustrante, va schifo, ci fa vedere la materia, invece di usare dei metodi più intelligenti. Come ti dicevo, prima di imparare a utilizzare il palazzo della memoria, riuscire ad arrivare con una preparazione impossibile per me era molto difficile. Non riuscendo ad avere una memoria forte, ed essendo anche una persona emotiva, andavo sempre all'esame con una confusione in testa, e anche se avevo studiato per mesi, avevo sempre la sensazione di non ricordarmi le cose, ma perché nessuno me l'aveva mai insegnato. E quindi andavo all'esame con una preparazione normale. Si può prendere 30 con una preparazione normale, ma è molto più probabile che prendi 30 con una preparazione impossibile. Cioè, andando all'esame, riuscendo a dire delle cose, a ricordarti delle cose, che nessuno riesce proprio fisicamente a memorizzare, o comunque impiegherebbe un anno per riuscire a memorizzare tutte quelle informazioni, mentre tu con il palazzo della memoria puoi avere la memoria di un computer. Ti faccio un esempio. Avevo studiato 10 giorni per diritto amministrativo, era un esame abbastanza grosso, con tante cose tecniche, e soprattutto era 18 crediti. Cioè, a livello di media ponderata, era importantissimo per me. E mentre ero all'esame, ho iniziato a dire una serie di sentenze alla professoressa. E mentre stavo esponendo, a un certo punto la professoressa mi dice, Morillo, ma lei mi sta citando tutte le sentenze a memoria? E ho fatto, sì. E lei fa, cioè, lei sa tutte le sentenze a memoria? Sì. E allora mi dica questa, e mi dica questa, e iniziò tipo sto quiz in cui lei iniziava a interrogarmi sulle sentenze. Dopo aver superato questo quiz che mi stava facendo, mi dice, vabbè, io le devo mettere 30. E in quel momento mi sono venuti i brividi, perché nessun professore mi aveva mai detto, le devo mettere 30. C'è qualcuno che dice, eh, ma se il professore si arrabbia per questo... Bah, per me sono dubbi inutili che hanno o cercano di installare delle persone che questa cosa non l'hanno mai provata, perché a me non è mai successo che un professore si incazzasse, perché io sapevo dei dettagli impossibili. Dunque, erano solo stupiti e meravigliati e contenti dal fatto che io avessi quel tipo di preparazione. Quindi, il primo consiglio è avere una preparazione impossibile. Tu mi dirai, Giuseppe, come devo fare? Trovi il link in descrizione. Il secondo consiglio, questo anche è importantissimo, è studiare la cattedra prima di aprire il libro. E che cosa vuol dire? Questo è un errore che facevo anche io. Cioè, andavo a studiare il libro con delle ipotesi su come sarebbe stato l'esame, su come mi avrebbero posto le domande, su quali fossero le cose più importanti su cui mi dovevo concentrare. Il libro va aperto dopo aver capito come si svolgerà l'esame, perché è la cosa che andremo ad affrontare. Cioè, questa è una cosa molto importante. Noi la chiamiamo strategia d'esame, questa cioè riuscire a capire qual è la strategia migliore per riuscire a dare quell'esame in sette giorni, cercando di prendere ovviamente 30 o comunque un voto alto, e andare a capire come andare a preparare l'esame. Che è diverso da studiare il libro. E tu mi dirai, Giuseppe, ma io per preparare l'esame devo studiare il libro? Sì, ma sono due cose diverse. Cioè, capire come vincere la guerra è diverso dallo schierare le truppe. Perché tu puoi anche schierare le truppe, tutte le truppe che vuoi, ma se non sai come vincere la guerra, verrai distrutto, verrai annientato. La strategia d'esame è appunto come riuscire a preparare quell'esame in maniera eccellente. Che ripeto, è diverso dallo studiare il libro. La maggior parte degli studenti passano tantissimo tempo a studiare il libro, ma sbagliano la preparazione dell'esame. E quindi vengono sorpresi all'esame e prendono un voto basso per questo. Addirittura vengono bocciati anche se hanno studiato dei mesi. Ad esempio c'era questo studente che mi ha detto che doveva preparare un esame di latino. Che cosa è successo? Che lui ha studiato per mesi la traduzione, quando invece la maggior parte delle domande erano sulla grammatica. Spiazzato da questa cosa ha buttato via tre mesi dalla sua vita. Questo è solo un esempio di quanto sia importante dedicare tempo alla fase di organizzazione e a capire l'esame e la cattedra prima di andare a studiare il libro. Questa è una cosa fondamentale per prendere 30. E soprattutto se l'esame si svolge in quel modo e perché, probabilmente il professore vuole che noi studiamo i materiali in quel modo lì. Quindi, secondo consiglio fondamentale, studia l'esame, studia la cattedra prima di aprire il libro. Se vuoi sapere qual è il modo migliore per farlo, anche qui trovi i link in descrizione. Terzo consiglio per cercare di conquistare il nostro 30. Usare il metodo OCME, ossia un metodo universitario che copre tutti gli aspetti della preparazione. Come ti ho già anticipato, è importante andare a coprire tutte le fasi dello studio in maniera perfetta. Con prima l'organizzazione, poi la comprensione, poi la memorizzazione e poi l'esposizione, la cui sigla sta appunto per OCME. È importante perché il metodo OCME è come se fosse una checklist. Cioè, il problema principale che avevo anch'io all'inizio, quando facevo l'università, è che studiavo un po' a caso. Cioè, prendevo il libro e iniziavo a studiare dall'introduzione. Alla fine, ok, lo evidenziavo tutto. Poi finivo e tornavo indietro. E lo studiavo così, cercando di rileggerlo la più volte possibile, di evidenziare, a volte facevo dei riassunti, a volte degli schemi. E poi iniziavo lì a ripetere ad alta voce il metodo di studio di tutti, dai, più o meno. Non avevo quindi la padronanza di quello che stavo facendo. Per cui magari c'era un argomento che avevo capito, ma poi non avevo memorizzato bene. Quindi andavo all'esame e magari se l'avessi ricordato l'argomento, l'avrei anche saputo dire, ma non avendolo memorizzato bene, mi mancava un tassello. Oppure alcune cose non le avevo capite bene. Memorizzavo a pappagallo. Quindi poi all'esame, se il professore mi chiedeva un attimo di ragionare o di fare un collegamento, o perdevo il filo del discorso, non sapevo più come continuare perché era quasi una poesia che avevo imparato a memoria. E allora veramente non me ne rendevo conto che, uno, non avevo una ricetta. Due, anche quando cercavo di fare quelle attività importanti, come comprendere, memorizzare o allenare l'esposizione, lo facevo nel modo sbagliato. Con l'Ocme invece tu hai la certezza di, fase dopo fase, fare tutto quello che devi fare per riuscire a portare una preparazione eccellente all'esame. E tu, mentre studi, sai, argomento per argomento, tutto quello che devi fare, in che momento lo devi fare per riuscire a ottenere quel risultato. Quindi, terzo segreto per prendere 30 è molto importante avere un metodo universitario, cioè pensato per l'università. Il metodo l'Ocme ovviamente è il migliore in Italia, con centinaia di testimonianze, nonché il primo che abbiamo creato tantissimi anni fa. Non è una formula magica che la dici prima di ogni esame e prendi sempre 30. È una serie di abilità, come hai visto, che devi allenare, devi imparare a studiare, devi formarti su queste cose, ti devi allenare. E tu mi dici, ma io già non tengo tempo per studiare, ora mi devo imparare a studiare. Eh sì, come imparare a portare la macchina? Ti richiede un mese, due mesi, però cazzo, poi c'è la patente, poi ti puoi muovere. Allo stesso modo vale per lo studio, cioè è un piccolo sforzo che facciamo all'inizio, di tempo e di impegno, per poi avere queste qualità per tutta la vita. Perché alla fine non si finisce mai di studiare, di formarsi, ci saranno sempre delle prove da superare o delle cose che dobbiamo imparare per diventare migliori nel nostro campo. Capito? Secondo me è un po' limitante dire non ho tempo, non è una cosa a cui mi voglio dedicare. Secondo me è la prima cosa a cui si dovrebbe dedicare a uno studente e a un certo punto ho bloccato gli esami a dire ok, io ho capito che non so studiare, ma non voglio più aprire un libro fino a quando non ho capito che devo fare per studiarlo bene, perché sto solo a perdere il tempo. Quindi se provi anche tu questa sensazione, clicca su link in descrizione. Insomma, i tre consigli per prendere più 30 sono 1. Una preparazione impossibile 2. Studiare la cattedra prima di aprire il libro 3. Usare un metodo universitario completo che copre tutte le attività che devi svolgere per riuscire ad avere una preparazione eccellente all'esame. In una parola, il metodo OCME. Lo vuoi il metodo OCME? Clicca il link in descrizione. C'è il videocorso gratuito, laurea lampo, qui ti faccio anche applicare il palazzo della memoria, facciamo un esercizio insieme che è bellissimo, su cose universitari tra l'altro. Oppure, se vuoi subito iniziare con noi, c'è Superstudente in un giorno, che è un videocorso che costa pochissimo, che si possono permettere tutti, ed è un videocorso che, appunto, puoi consumare in un giorno, in cui ti spiego le basi del metodo OCME e come iniziare ad applicarlo sin da subito. Tra l'altro, il videocorso Superstudente in un giorno ha anche la garanzia soddisfatto o rimborsato. Qui da Giuseppe Morelli è tutto, ti mando un bacione, ciao!